Da stamattina si lavora duro sul prato di Collemaggio senza perdere altro tempo. Tutto deve essere pronto per l'ospite illustre e atteso a breve è la ricorrenza che ha fatto la storia della città. Sarà una perdonanza mai vista prima all'Aquila, questa ormai prossima, perché mai fino ad oggi in 728 anni di storia era stato un Papa ad aprire la Porta Santa della Basilica di Collemaggio. Appuntamento con Francesco domenica 28 agosto, accanto alle spoglie mortali di San Celestino V, il famoso Papa dimissionario che il 29 agosto 1294 si era fatto incoronare proprio all'Aquila, non a Roma, facendo poi dono agli aquilani di un'indulgenza plenaria da lucrare qui ogni anno in quella stessa data. Storicamente la perdonanza, questa storica indulgenza, viene concessa sei anni prima, del primo giubileo della storia voluto da successore del Papa Celestino V, Bonifacio VIII nel 1300. Certamente l'intuizione dell'indulgenza della perdonanza ha aperto la strada. Da allora ogni anno l'Aquila celebra la perdonanza, anche nel 2009 con la città sventrata dal terremoto e 309 morti, tutti elencati qui in questa lapide, nella chiesa delle anime sante, sulla piazza dove Francesco quel giorno stesso incontrerà i loro familiari. Abbiamo saputo che è stata proprio una sua espressa richiesta quella di incontrare le vittime, è molto importante per la nostra comunità questa attenzione, perché il terremoto chiaramente fa parte della nostra storia. La perdonanza la conosciamo, le tradizioni le conosciamo, però onestamente non ho mai partecipato alla perdonanza. Chissà, magari quest'anno è la volta buona.